Che fai Steph? Sto facendo ninja Fede Tu non sei un ninja, è ovvio che non sei un ninja Fede sono un abilissimo guerriero di karate Sono super esperto e la cintura nera No, non è vero Non è la cintura Steph, è la tua sciarpa quello Lo sanno tutti con sorridi che quella è la tua sciarpa Non è la tua cintura Quella è la cintura nera assoluta Non l'hai mai vista Perché è unica in tutto il mondo Non commento Mi vergogno, in questo momento mi sto vergognando tantissimo Ma tantissimo Ragazzi come va? Io sono Feri Niki E sono Steph, che si chiama Minecraft E stiamo qui con una nuovissima custom map Che si chiama Ninja Defense E Steph, come avete già notato Dovrà vestire i panni di un abilissimo ninja E difendere il proprio villaggio da dei villageri Che penso siano cattivi, no? Esattamente Allora, è una di quelle custom map particolari di Minecraft Dove si gioca con la visuale dall'alto Io non ne ho mai provato una Però ne avevo visto in diversi video Alcune E dovrebbero essere molto interessanti In questo caso appunto saremo un ninja Dobbiamo difenderci dalle invasioni dei villagers E ci sono diverse cose interessanti Però partiamo e proviamo il gioco Poi vediamo Perché in effetti non so neanche come funziona Quindi direi di partire Start così Vedi io mi posso muovere con WASD Però poi non so Fede come... Mi difendo Non sai come si gioca C'è scritto WASD per muoversi E mi sapevo muovere Visto bene Mi muovevo benissimo Ok Però mi manca Come attaccare Come fare il ninja E dovevi leggere i comandi Però sono i tasti Fede non c'era scritto dell'attacco C'è scritto solo come muoversi Quindi adesso troverò il mio modo Di fare gli attacchi incredibili Forse è così Ovviamente sono un ninja Quindi ho capito facilmente i tasti Fede 10 minuti per capirlo Non è vero Guarda Vai Non devi usare il mouse Semplicemente Clicchi due volte sulla direzione E li devi stendere Quando sono a un blocco da te Quindi ti devi difendere Devi essere bravissimo E difenderti in questo modo Altrimenti saranno loro A stendere te Esatto Attento Ok 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 Ti voglio dire Che come vedi Ci sta segnando dei punti Ok Con questi punti Noi possiamo sbloccare Delle nuove abilità Dei nuovi nemici Oh mamma mia Oh cavolo È stra difficile adesso Vai Steph Ci lo puoi fare Crediamo tutti Nella tua sciarpa cintura Vai Steph Prego Difendimi Oh mamma mia Io sarei già morta 20 volte Ma come fai Vai Vai Aiuto Girati veloce Non cliccare Steph Si è andato bene 58 punti Wow Non è male Io avrei iniziato a cliccare Tatti a casa E perdere in continuazione 58 punti È tipo chitarino così È figo È strano Andiamo a vedere se possiamo già comprare Qualche abilità più forte Esatto Allora Forse qua su settings Ci sono i power up Fammi vedere un pochettino Non lo so Qui c'è Right click Shoosa platform Ah Fammi vedere questa con i logs Ok Ah cambia E se io metto water invece che cos'è allora Perché qua c'era acqua Forse era quella che avevamo già Fammi vedere Ah sì Ok non mi piace di più con i logs Verò Sì è molto carino Ho stone Facciamo una roba un po' più Medievale Vai Ok Sembra un tempio E invece qui noi possiamo scegliere il tipo di villager Mettiamo ovviamente ninja Quando la nostra barra dell'esperienza arriva a 5 Si può usare questa abilità che dovrebbe uccidere tutti E ti dà 10 punti Quindi Vediamo un pochettino Vediamo Steph Esattamente Voglio Cerca di resistere fino a livello 5 Voglio battere il mio record Fere Vai Vai Ce la posso fare Ce la posso fare Sono partito bene Sono tranquillo Ormai ho un sacco di esperienza Ho visto Mamma mia Quanto accelera all'improvviso questo gioco Diventa super difficile Aiuto Aiuto Fere sono ancora 3 Maledizione 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 Concentrati Steph Ce la puoi fare Solo metà livello Solo metà livello Su Su Ok 5 5 Si ha 5 Usa shift Usalo però Non ha funzionato Come non ha funzionato Non ha funzionato Io l'ho premuto ma non è andato Vabbè mi difendo alla vecchia maniera Ok È l'unico modo per me Aiuto Prova a ripremerlo No Premerlo quando puoi Però il rischio è saluto di morire Lo premo io Magari È lungo Brava vieni Aspetta Aspetta Però ho fatto 100 101 Ottimo Io l'ho premuto Una volta e non è successo nulla Non vorrei che Dato che io ho shift e control invertiti Ok Per comodità Magari invece che shift Devo premere control Provare tutti e due Fai E ma Quando Sei livello 5 È già tutto troppo veloce Per poter provare Così a caso Devi essere abile Ninja sono abili Riescono a guardare sempre Tutto quello che ci succede attorno Che ansia Fere Fere prova premere control Vieni qua vieni qua vieni qua Veloce Premi Sì Ha funzionato Ma si sono arrabbiati Però sono tutti esplosi Quelli che c'erano sono esplosi Quindi sì Perché avendo i tasti invertiti di minecraft Devi invertire Esatto 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 Io vado Aspetta Io vado Posso ancora fare un po' da solo Vai 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 Veloce Ok È difficilissimo Perché lui ha la mano lì in mezzo Quindi non riesco a preverlo bene È stra difficile Fere Vai Vai È troppo veloce Vai Cavolo 102 Sempre lì siamo Si è aumentato di uno Dobbiamo usare il power up un po' dopo Se l'avessi Vero Resistere ancora un po' e usarlo dopo Ok Ma poi secondo te si può riutilizzare ogni 5 livelli Penso di sì Di esperienza Oppure solo una volta No secondo me lo puoi riutilizzare ogni 5 livelli Dai Altrimenti è un power up Davvero inutile La 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 Chi è che sta muovendo il gioco Le magie Le magie Allora abbiamo fatto una cosa un po' particolare Siccome io non avevo voglia di sedermi nella postazione di Steph Perché è scomoda secondo me Abbiamo attaccato la mia tastiera al suo computer Quindi adesso mi posso andare avanti e indietro Però ovviamente non posso girare di visuale Perché il mouse è rimasto attaccato al mio pc Vai a fare lo start Sei pronto? Vai 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 Da questa parte Qui 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 Ti ci porto Ok Ok Premo No aspetta Dobbiamo girare bene Vado Vai Pronta Vai Divertiti No non mi diverto Ok Così Così Però sono già morta Ok vai riproviamo È stra difficile Concentrati Non sei pazzo Ti devo dare la mia sciarpa? No Non la voglio Stai zitto Ok Devo capire giusto come funziona Esatto Devi essere veloce Cambiare direzione Quelli che si avvicinano di più Ti ci girano i picchi Brava Brava Stai migliorando Stai zitto In questo momento Mi fa malissimo Esagerata Come fai Steph Allora il fatto è che io sono una persona ansiosa Ogni volta che gioco nei giochi di velocità Mi viene l'ansia e non riesco a giocare Quando in realtà magari sono bravissima Allora Capito? Devi arrivare minimo a 50 Quindi continua Forza No non lo voglio fare Avvicinati Non mi avvicino Vai Perché mi sono avvicinata? Perché l'ho fatto? Su Almeno 50 me lo devi fare Fere È proprio una questione D'orgoglio 25 Abbonami il 50% di sconto Ma che 25 Hai fatto 20 Cosa vuoi migliorare? Di 5 il punteggio Sì esatto Andrebbe benissimo Quatti ci devi allenare tutto il giorno Fere Ti lascio tutto il giorno qui Ad ammazzare villager neri Ok Vai Brava Ora c'è l'era esatto Prendi il ritmo Prendi il ritmo Bravissima Ce la faccio Ce la fa Ce la fa Ok Ma che cosa dici? 40 40 40 40 È un altro crampo alla mano Però va bene Va bene Sì 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 Sei drastica Mi farei finire in ospedale Con la mano fasciata E non potrò più registrare i video Sì guarda Che gran peccato nel caso Sei pronta? No No? Ti cambia la skin Dai ti cambia la skin Andiamo a mettere l'ultima Così magari ti porta bene Sì andiamo Cambiamo anche la piattaforma Che fastidio girare così Vai Sì Allora Dobbiamo mettere Questo è il segment No questo è il quam Vai vediamo che cos'è Ok e poi qui dobbiamo mettere Logs Ok vai A posto Andiamo 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 Sei più brutta di prima No sono più bella Mi piace di più questa ambientazione Mi porterà un sacco di fortuna No l'ambientazione mi piace di più Però il personaggio verde non mi piace A me piace Mi piace Ok quindi deve fare 50 consolini Arrivata a 40 Deve migliorarsi di 10 Non è facile però è migliorato da 20 a 40 Quindi da 40 a 50 C'è bisogno di prenderci il ritmo e stare stra concentrati Perché qua Ecco che c'è l'era Ma dai mi hanno chiuso però da tutte le parti Steph Questa era difficile Come fai? Devi essere un po' più rapida Come fai eh ma non sapevo Perché non so decidere quale direzione prendere per prima Capite? Vai vai zitto Vai Fere questa volta è la volta giusta Ce la posso fare Me la sento Me la sento che questa volta ce la fai Ce la faccio Ce la faccio di sicuro Occhio che resta accelera Ok Ci sono Non ti preoccupare ci sono Steph Eh ma stai migliorando tantissimo Fere Sì sì ormai ha fatto un sacco di esperienza I tuoi consigli mi sono stati super utili Mi sono allenata un sacco Ok Fere concentrati Il ninja migliore del mondo Concentrati Fere che manca poco Vai vai Non sbagliare Non sbagliare Dai che si è 50 Dai che si è 50 Sì In realtà stavo giocando io Esatto sì Non ce l'ho fatta Arrivo tipo a 40 e poi muoio Sì è molto triste questa cosa Steph che abbiamo fatto Perché abbiamo imbrogliato Capito Quindi non va bene Poi sei morta a 51 giusto Ti sei emozionato No vabbè Volevo fermarmi perché poi non era credibile Esatto volevi renderlo credibile Esatto Però non lo è stato Sì mi dispiace Vabbè Fere ha fallito la sua sfida del 50 Vediamo Io volevo essere un ninja infatti A me non interessava sta cosa Capito No È figo il ninja Fere No no Non vado matta Con il bambù sott'acqua Nascosto È figo Cosa fa Ok È una mostra incredibile In ogni caso Fere ha fallito il suo 50 Vediamo se io riesco a fare il mio 150 Aiuto Non era un buon tempismo Era un buon tempismo Vai Steph vai Continua Morirò Morirò Ma lei mi stacca Da pazzi sto gioco Come fai Non mi sei piaciuta Come Allora ultimi due tentativi Dopodiché mi arrendo anche io Allora più o meno devi provare a premerlo Intorno ai 100 stavolta Ok Provo a sopravvivere da solo fino a 100 Cala le spalle Vigliacco Non so veloce Vigliacco Quindi questo è il mio ultimo tentativo Vai Sì Giocatelo bene Aspetta Fere Mi serve una cosa Torno subito No ti prego Smettila Torno subito Fere È il potere finale Il power up del gioco Non è nulla rispetto a quello Torno subito Cosa ho fatto di male io Per meritarmi questo Non commento eh Sono pronto No mi vergogno Il mio potere è salito Mi sto vergognando tantissimo eh Ma tantissimo Va bene Fere Non sento Le tue emozioni Non mi interessano Guarda faccio anche così Per non vederti Mi scivolo Guarda No non ti guardo Per le barriere È sempre la tua sciarpa Smettila È vero Fere Vai È un potere incredibile Ok Ok Guardate come sono già più attivo Guardate Guardate come mi giro veloce eh Avete visto Adesso perdi a 20 Continuando così perdi a 20 Fere Ce la faccio Ce la faccio Ci devi credere anche tu E tu devi essere pronta Intorno al 100 Col power up eh Ok Sì prontissima Fere vedi che i miei click Sono lenti Sì stai lento Lo senti Senti i tuoi crampi Nelle mani Esatto Mi fanno male le mani Non pensavo di essere già stanco Vai Ok Ok Per iniziare ad essere un po' pronta Iniziare ad essere un po' pronta Concentrata Concentrata Mi avvicino Mi avvicino Quando mi dè il velo Clicco Ok Vai Ok Vai 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 Questo è andato bene Ok È stato una buona cosa Ok 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 111 però Da almeno ho superato il tuo record Quindi diciamo che abbiamo chiuso questo tentativo Con dignità Con onore Con dignità Con onore No dignità preferisco Con onore L'onore è un parolone per come sei conciato Capito Quindi diciamo dignità Ma allora io ti spiego perché questa cintura sciarpa è fantastica Non è una cintu sciarpa Perché praticamente Non esistono le cintu sciarpa Quando io mi concentro Guarda Faccio l'attacco elica Vedi E quindi sono fortissimo Perché ti devi rendere ridicolo Dovrebbero essere video seri questi Perché ti devi rendere ridicolo Io ti chiedo Io l'unica cosa che volevo dire È che ogni tanto la sciarpa Me la metto così davvero E a fare un po' confermare No non confermo Io non nego Non confermo Cerco il mio Il mio karma interiore Il tuo mantra al massimo Perché il karma Non c'entra nulla Il karma interiore Va bene Che è quello che ti scatenerò contro Se non la smetti E allora ci fermiamo Per ragazzi Iscriviti Iscriviti Lasciateci un like E se è la prima volta che avete un nostro video Potete considerare Iscrivetevi Per non perdere il video Al prossimo Ciao E alla prossima Ciao Sì 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 Grazie a tutti.